Siamo alla metà di giugno e nel girone C del campionato nazionale di Serie C le società non hanno ancora tutte sciolto le riserve rispetto alla guida tecnica. La Cavese è stata una delle prime a muoversi, ufficializzando l'allenatore Francesco Moriero e la quasi totalità del suo staff e si è mosso in anticipo rispetto alla data del 30 giugno anche il Rende che ha preso Angelo Andreoli il quale va a sostituire Francesco Modesto a sua volta passato al Cesena. Il Catanzaro ha dato fiducia ancora a Gaetano Auteri nonostante la mancata promozione in B e c'è anche la riconferma di Pino Raffaele al Potenza che nell'anno solare 2019 finora ha perso una sola partita. Il nuovo contratto di Raffaele vale addirittura fino al giugno 2021. Cambieranno allenatore la Urbs Regina che ha già un accordo di massima con Domenico Toscano e il Monopoli che potrebbe affidarsi alle cure di Luigi Panarelli oppure di Alberto Colombo. Ciro Ginestra, ex tecnico di Bisceglie e Altamura, residente in Salento, ha risposto positivamente al richiamo della Campania, sua terra d'origine e ha firmato con la Casertana. Già abbastanza sicura la conferma di Bruno Trocini alla guida della Virtus Francavilla e quella di Giovanni Cornacchini al Bari. Potrebbero restare inoltre Domenico Giacomarro a Picerno e Giovanni Bucaro a Lavellino. Incognite per quanto riguarda il Catania che incontrerà Sottil a breve, la Sicula Leonzio che ha cercato Vito Grieco, la Vibonese che aveva contattato Roberto Cevoli, il quale però avrebbe scelto l'Alto Adige e situazione incerta anche per il Rieti, la Viterbese e il Foggia. C'è inoltre il caso del Trapani che aveva in programma una partita stasera, quella decisiva per la promozione in B contro il Piacenza. L'allenatore Vincenzo Italiano siede tuttora sulla panchina siciliana a richieste da club del campionato cadetto ma potrebbe anche rimanere qualora dovesse riuscire a portare i Trapani in B.